Un buongiorno agli amici di Yante.it, un buongiorno a una persona carissima che ritrovo dopo tanti anni, il tecnico Gianni Clerici. Buongiorno Gianni. Buongiorno a te. Ecco, grazie per questa presenza, anche perché ci tenevamo, cercando di stare un po' al passo dei tempi, per parlare di una realtà che non tutti conoscono, almeno qui da noi sì, però è meglio far capire, far sapere quello che succede nei settori giovanili. Parliamo del Giambino, questa società che è nata, dopo ci racconti tu la storia, tu quest'anno l'hai portata a vincere il canale dei primi creatori di Giovedì, che insomma dopo Venarotta è stata fondata questa società, però sulle ali di un qualcosa che è successo tanti anni fa. Mi dispiace che non c'è il presidente Diamanti, però sicuramente avremo un altro appuntamento per farlo io, però adesso sei tu che devi farci un po' così, una breve storia. Ok, ci provo e molto volentieri, questa società è nata nel 2003 in memoria di un ragazzo, Ciabattoni Valerio, soprannominato Ciabbino, ci ricordiamo sì, che era un ragazzo eccezionale, conosciuto tantissimo nel mondo dello sport perché ha giocato fino al livello di primavera, con la scolicalcio, poi frequentava anche il circolo tennis e la disgrazia fu una tragedia conseguentemente a un incidente stradale. E da qui poi era tanto il bene che questo ragazzo di cui si era circondato, di amici e parenti, così che ebbero la brillantissima idea di dedicargli una società, gli amici e parenti e questa società è proseguita negli anni, nel suo nome, ogni estate si fa una festa per ricordarlo e ancora sono tutti legati a questa situazione, quindi questa società, questa squadra ha valori che vanno oltre lo sport. Ecco, mi dicevi da quest'anno hai preso la guida tecnica, però ecco il Ciabbino, cioè anche vincere, forse si parla sempre di serie B, serie D, eccellenza, però anche la prima categoria ha un bel campionato, specialmente i gioventi di questo Piceno, e poi vincerlo in anticipo penso che sia una doppia gioia per tutti quelli che hanno voluto credere a questa cosa. Sì, beh, quest'anno questa società, i miei presidenti Romano Diamanti e il presidente onorario Giordani Graziano hanno voluto dare un tocco di importanza, di più professionalità a questa società, non nascondendo le ambizioni e gli obiettivi minimi che erano quelli di poter effettuare almeno i play-off e non mi nascondo che la nostra squadra era tra le 5 e 6 candidate per cercare di vincere il campionato, però, insomma, dietro questa società c'è un'organizzazione incredibilmente importante per una prima categoria, se penso che sono circondato il mio staff, ci sono due vice allenatori come Paoletti, come Feriozzi, c'è un preparatore dei portieri, come, adesso mi sfugge il nome, sto facendo una gaffe, c'è un fisioterapista importante come Massimo, stamattina con i nomi, volevo... i nomini, i ruoli delle persone, quindi una società ha tutti gli effetti, al di sopra della categoria, sì, esatto. Questo vuol dire che questa società ci crede, ha dei valori e giustamente, visto che tutto sta andando nel migliore dei modi, perché non credere anche a fare qualcosa in più nello sport? Beh, adesso andiamo ad affrontare una categoria, un campionato molto più importante... Però, insomma, io credo che la società, sulle ali dell'entusiasmo e sulle ali del progetto nobile, con cui è stata fondata, proseguirà sulla falsariga di quello che ha fatto quest'anno. Ecco, ma tu in cuor tuo, visto che hai preso Pro, io ti conosco da tantissimi anni, hai girato un po' tutte le marche e non solo, ci credevi anche tu a questa vittoria che arrivasse anche in anticipo, considerando il valore dell'altra squadra? Beh, che speravo di vincere il campionato, sì, che ci arrivassi con due giornate di anticipo è stato ancora più brillante, però, insomma, quando si è creato questa squadra così, a livello tecnico, così importante, ma soprattutto anche a livello morale, giocatori importanti, sia professionalmente che moralmente, quindi c'erano tutti i presupposti per cercare di vincere il campionato. Ecco, ti chiedo questo campionato, più difficile del previsto, oppure, non so, temevi qualche squadra in particolare, ma per il resto, insomma, era abbastanza abbordabile? No, beh, credo che il livello quest'anno di prima categoria, conseguentemente al fatto che è stata eliminata la C2, credo che ci sia stato un salto notevole di qualità. Questo, sommato, quindi c'è stato un movimento a scalare dalla C2 all'interregionale e così via. Questo, oltre al fatto che la crisi, molti giocatori, in considerazione della crisi che c'è, hanno preferito a volte prendere società di prima categoria, ma serie, rinunciando a una categoria superiore. Quindi, il livello della categoria si è elevato notevolmente e vincerlo non è stato facile. Ed onore a tutte le squadre che ci hanno conteso il titolo, in modo particolare la San Giorgese, che fino all'ultimo ci ha contrastato. Sì, l'unica che sta quasi allo stesso livello, perché avete sette punti di vantaggio, quindi vi ha tenuto, insomma, fino alla fine sulla corda. Sì, perché loro nel girone di ritorno, dopo che abbiamo vinto a casa loro, la terza del girone di ritorno, hanno inanellato otto vittorie consecutive. E quindi, insomma, tra noi, noi vincevamo, però gli altri non mollavano, ci hanno tenuto sempre sulle spine, forse ci hanno dato quelle motivazioni e quella spinta ancora di più per poter fare un così brillante campionato. Ecco, altre società storiche che giustamente parteciano a questo campionato da tanti anni, come, ad esempio, Ripatranzone, La Palmenze, New Generation. Cioè, sono tante società che hanno anche, so, degli organici importanti. Quindi, diciamo che questo va onore e merito a te, a tutto l'organigramma, perché, insomma, il valore era abbastanza consistente. Sì, queste società che hai nominato, infatti, sono le 4-5 società che, secondo me, insieme a noi, potevano ambire alla vittoria del campionato, perché hanno operato tra i loro fili, la Sangio Gese, ma specialmente la Palmenze, giocatori che fino all'anno scorso hanno militato in categorie superiori. Vedi, ad esempio, la Palmenze e la Cacciatori, che l'anno scorso ha vinto il campionato di eccellenza con il Mondicelli e c'è un passato molto importante, così come tutte le altre società. Però uno dei nostri meriti, credo, sia stato quello di sapersi ambientare anche nei campi più provinciali, tra virgolette, e alle situazioni. Ecco, una domanda un po' più generale. Dopo tanti anni che alleni, come vedi il calcio? Cioè, è cambiato tantissimo, ci sono dei valori che sono cambiati. Io tante volte, dopo 35 anni, vedo che, tante volte, degli sprologo che si vedono in Serie A, ma si vedono anche nei dilettanti, tante volte ci si rimane male, arbitraggi, non diciamo scandalosi, non all'altezza della situazione, però... Cioè, secondo te, è cambiato in meglio o in peggio? E costa gli anni il calcio? Allora, credo che la tattica e la tecnica sia cresciuta perché aumentando le prestazioni a livello atletico, fare gesti tecnici che prima si poteva, avendo più tempo e spazio, adesso sono meno possibili e quando ci si riesce sta a dimostrare che c'è una tecnica, una professionalità maggiore forse rispetto al passato. Quando riguarda gli arbitraggi, invece, credo che la federazione sia costretta a prendere un po' tutti quelli che vogliono fare l'arbitro. Io credo che per far crescere la qualità degli arbitri bisogna dare dei rimborsi, anziché darli dopo 3-4 mesi, bisogna darli in modo più immediato, bisognerebbe rimborsarli, credo, maggiormente, in modo da creare numero, in modo da creare competitività, nella competitività poi ritrovi la qualità. Quest'anno devo dire che il livello di prima categoria, in questa categoria mandano arbitri giovani per vedere che tipo di futuro potrebbero avere in quel mondo, quest'anno è stato sinceramente un po' deludente. Io ecco, seguo molto qui sia il Porto d'Ascoli che il Grotta Mare in eccellenza e vedendo che spesso anche partite sulla carta non particolarmente difficili, che non ci sono asti tra le società, arbitri che vengono da altre regioni, perché ci deve stare questo rapporto di competitività tra una regione e l'altra anche per far conoscere le realtà diverse tra una regione e l'altra. Tu come la vedi sta cosa? Ma questo è sicuramente positivo che ci sia questo scambio, però, ripeto, credo che nella competitività ci sia la qualità. Altre cose non vedo, ecco, mi resta difficile pensare a qualcosa che li possa far crescere al di là della competitività. Certo. Anche perché, giustamente, io vedo quello che succede, insomma, perché la federazione, visto questa crisi economica, la sentiamo anche in tutti gli sport, che lo sport è quindi il divertimento. Però, giustamente, spesso quando vediamo queste cose, diciamo, ma come se tu guardi anche il fatto economico, perché mi fa venire una persona o una terna di fuori regione che, giustamente, hanno un introito di spese maggiore rispetto ad altri del territorio? Punto introitativo. Vabbè, però, vale lo stesso discorso, magari, con i giovani. Quando si sta nel settore giovanile, uno cerca, magari, di far fare tornei ai ragazzi, anziché farli girare solamente nella provincia. Allora, nei tornei provinciali che ci sono, forse non sono sufficienti per farli maturare, allora le società, i tecnici cercano di fare tornei in altre regioni, così, per far crescere lì. E credo che lo stesso criterio si usi nel mondo degli arbitri per cercare di far crescere gli arbitraggi. E' comunque anche vero che loro cercano, specialmente nelle nostre categorie, di poter risparmiare il più possibile, facendo venire arbitri più vicini possibile alle due società, che noi, ad esempio, domenica, sabato, andiamo a giocare a Pedrito, e viene un arbitro di San Benedetto, media distanza tra le due situazioni, cercando di risparmiare, non facendo venire un arbitro da Ancona, da Iesi o da Pesale. Vabbè, anche questo penso che serva. Una domanda, visto la tua esperienza di calcio. Ecco, quest'anno, come sai, il Monticelli è approdato in questo campionato importante di Serie D. Nico Stallone, che tu conosci, una società, diciamo, giovane di un quartiere, un po' come Chievo Verona, diciamo adesso sta attraverso un momento difficile, però penso che per la provincia di Ascoli sia un valore aggiunto, perché avere per Ascoli vicino due società in campionati importanti come Ascoli Serie B e Monticelli in Serie D penso che sia un valore che poche regioni si possono permettere. Questa del Monticelli è stata un esploi incredibile, forse si è trovato ad affrontare una realtà superiore alle loro possibilità. Adesso, in questo momento, secondo me, stanno pagando quello che Ascoli città non ricambia a livello Ascoli sportivo. In Ascoli ci sono pochissimi impianti sportivi, su tutti i campi in contemporanea si allenano due società, avendo metà campo ciascuno, il Monticelli, squadra interregionale, si allena sul campo di Monticelli, dove su questo interico ci sono anche le buche, dove il campo non... Cioè, allenarsi su quel campo, insomma, è deleterio parecchio e secondo me stanno andando oltre le loro possibilità, non solo tecniche, ma anche a livello logistico. Adesso non ci voleva questo episodio, insomma, del fatto che hanno fatto giocare un giocatore fuori quota, così. Però, insomma, può accadere, può accadere una cosa del genere, la società dovrebbe stare un po' più attenta a queste situazioni, però per quello che hanno fatto e quello che stanno facendo e nel contesto in cui si muovono stanno facendo miracoli. Secondo te ce la farà salvarsi oppure rischierà di gestire i play-out? Perché vedo che la questione si è accorciata. Adesso si è complicata, perché sta in una parabola discendente, venirne fuori non sarà facile. Io gli auguro con tutto il cuore di potersi salvare e credo che per Ascoli Città, per Ascoli Calcio come prima squadra e così in futuro ci sia una maggior collaborazione tra la prima squadra e il Monticelli, l'Interregionale, che potrebbe essere una società satellite dell'Ascoli Calcio. Gianni, mi ha fatto piacere rivederti dopo tanto tempo, ti faccio i complimenti per questo successo, l'Imboccalò per il futuro, con la speranza che la prossima volta ci vieni a trovare col Presidente e facciamo un buona panoramica anche in virtù di quello che sarà il prossimo anno di promozione. Ti ringrazio. Grazie a te. Grazie a voi.